ok ciao ciao mamma partiamo andiamo prima la poi da quando riusciamo in poi mettiamo un ma che faccia! oh quanti carioni belle! ciao Cittini ciao sono bello bello è bello Sebastien ci vediamo più tardi mamma mia mamma che luce stanno fattendo uomo mio ci avete tutti i cagnoni adesso oh, subito a fare benzina e via mettiamo la google map yes e andiamo ad acerenza e andiamo la benzina da noi la benzina Facciamo rifornimento? Eh già, almeno stiamo avanti. Ok, ci siamo. Direzione metaponto. Facciamo la metaponto. Guarda che c'è dietro, abbiamo baserato. Guarda la faccia, abbiamo baserato. Vabbè, ma comunque il Dripandino devono stare, non è che lei è la regina. Sì, dobbiamo andare sempre dritto fino a che non arriviamo sull'acento 6. Sì, brava. Qua c'è il semaforo e poi lì dentro subiamo per la strada, 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 strada. Sì. 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 Sì.